Spero tu ti senta bene, perché è ora di farsi una bella sudata! Ci divertiremo! Muoviamo questi piedi! E uno, e due, forza con i glutei! Soprattutto tu, Jared! Cosa? Ha per caso detto il mio nome? Non fare lo spiritoso, concentrati! Oh sì, mi sento così bene! Facciamo ballare un po' queste mani a ritmo di jazz! Mi piace! Oddio, che succede? Che paura, questo non mi piace! Oh, mi stanno bene questi skinny! Aspetta, si sono sbagliati! Cos'è successo? Meno lamentele, voi! Devi sistemare la questione! Facile! Guarda qua! Molto meglio! Wow, ma dove siamo? Guarda i miei capelli! Woohoo! Um, Jared, posso iniziare io? Vai, vai! Oh, guarda! È un distributore di caramelle! Pazzesco! Voglio provare! Oh, aspetta! Mi serve una moneta! Non ne ho! Posso prendere in prestito un po' di moneta? Non ti preoccupare, ci penso io! Cos'hai dietro all'orecchio? Wow! Pazzesco, eh? Grazie, Jared, sei il migliore! Ecco qua! Sì, ha funzionato! Caramelle! Mmm, buona! Anzi, più che buona! Deliziosa! Ups, scusa, Jared! Non ti preoccupare! Ecco qua! Oh, è una gomma! Sembra interessante! Dentro c'è anche del succo aspro! Mica male! Assaggia! Ok, la gomma! E ora il succo! E ora? Sì, ho un'idea! Metto il succo sopra la gomma! Mai mangiata una cosa così! Sembra dentifricio! Ecco qua! Wow, freschissima! Sì, mi piace! È rinfrescante! Che fortuna che hai! Non posso più prendere caramelle! Ho finito i soldi! Uffa! Aspetta! So cosa fare! Squoto e faccio uscire le caramelle! Piovono caramelle! Ora sì! Mamma mia, sono buonissime! Potrei mangiarne per giorni! Mie tutte mie! Oddio, calmati! Non riesco a smettere! Ok, io penso alla mia gomma! Ancora! Ne voglio ancora! Mi sa che hai un problema, Lizzie! Un problema serio! Che intendi? Hai il viso pieno di brufoli! Senti, se è uno scherzo! Oh, guarda qua! Wow, che bello! Mi piace! Le donne io proprio non le capisco! Nuovo look preferito! Sembri un clown! Aspetta! Tocca a me! Non capisco cos'è! È un joystick! Sembra buona! Ehi, è mio! Aspetta, ma è vero! Che succede se premo un tasto? Beh, c'è solo un modo per scoprirlo! Guarda qua! Una macchinetta per pescare giocattoli! Sono adorabili! Wow! Ok, voglio vincerne uno! Devo concentrarmi! Sarà divertente! Ne ho preso uno! Sono top! Un altro pochino e... Wow, ottimo lavoro! È un sacco morbido e coccoloso! Che invidia! Ok, guarda il mio piatto! Oh, caramelle scoppiettanti! Però preferisco quello che ha Jared! Preferirei un giocattolo! Ma provo a dargli una chance! Speriamo che mi piaccia! La spruzzo sulla lingua! Oh! Pizzica! Ok, a chi tocca? Ecco, un'altra per la collezione! Voglio giocarci! Aspetta, ho un'idea! Ehi Jared, facciamo cambio! Certo, perché no? Wow, era quello che volevo! Wow, ne ho preso uno! Oh, che carino! Cosa posso farci? Sto iniziando a pensare che non sia stato un affarone! Beh, ormai è troppo tardi! Niente! Aspetta! Oh, fa il solletico! Oh! 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 Ehi, meno male! Mi piace questo gioco! È fantastico! Apriamo! Wow! Aspetta! Tocca a me! Guarda qua! Wow! È super divertente! È un super rotolo di gomma! Enorme! Chissà quanto è lungo! Ora lo srotolo! Ancora non è finito! Guarda! Che odorino delizioso! Sicuramente è anche buonissimo! È come mangiare gli spaghetti! Tu riusciresti a mangiarlo tutto in un boccone? Ci provo! Uh! Vorrei assaggiarlo! Ora ne rubo un pezzo! Ha un sapore buonissimo! Lo so! Ehi, ragazza! Oddio! Sta davvero succedendo! È il momento perfetto! Iu! Beh! Chiediti la gomma! L'hai rovinata! Mi si spezza il cuore! Volevo solo essere amato! Oh! Tocca a me! Wow! Un anello! E guarda che diamante! Sembra uscito dalle favole! Oh sì! Un anello! Lizzie! Lizzie! Un anello! Sarà romanticissimo! Um! Lizzie! Questo è per te! Cosa dici? Che succede? Non di nuovo! No! Non ci credo! Mia madre mi ha messo in guardia sulle ragazze come Teo! È buonissimo! Sta curando le ferite del mio cuore! Aspetta! Che succede? Eh? Wow! Sono bellissimo! Ups! Meglio togliere il cappello! Meglio una corona! Mi sento una principessa! Cioè, un principe! Wow! Jared! Sei bellissimo! Eh? Posso darti una mano? Hai avuto la tua occasione! Vabbè! Sono solo io e il mio anello! Oh! Io e il mio anello! La tua corona sembra finta comunque! Pronto! Apriamo insieme! Ottima idea! Uh! Soda! La vorrei subito! Mangiare caramelle fa venire sete! Che bell'aspetto! Ah, la mia è meglio! E vabbè, apriamole! Che sete che ho! Molto meglio! Proprio ciò di cui avevo bisogno! Perché abbiamo dei mini water? Apriamolo! Dentro c'è qualcosa! Credo siano caramelli! E guarda! C'è anche un lecca-lecca! Sembra buono! Lo intingo nel water! Aspetta! Detta così fa proprio schifo! Sai cosa intendo! Ricopro il lecca-lecca di questa polverina! Wow! È ancora più buono! Spero nessuno ci abbia fatto la cacca qui! Et voilà! Fiu! Niente sorpresine! A che serve il lecca-lecca? Se puoi andarci con le dita! Oh wow! Mi piace! Mi è venuta un'idea! Chissà che succede se aggiungo della soda! Qual è la cosa peggiore che può capitare? Proviamo! Ecco qua! Wow! Guarda quante bolle! Oh Jared! Dovrei... Sì, berrò dal gabinetto Glugluglu Mica male, eh? Ups, scusa Credo stia succedendo qualcosa Au! Nell'occhio! Ah, anche il water ha fatto il ruttino Hai visto? Non è la cosa peggiore che ho visto in un bagno Ehi, perché c'è solo un piatto? Ma che succede? Lo apro Wow, guarda qua Un triplo lecca-lecca! Che fortuna! Wow, è mio! Sapevo sarebbe successo! E ora me lo godo! Wow! Assaggiamo il primo! Sembra buono! E lo è! Basta! Voglio assaggiare! E dai, fammi assaggiare! No! Ah! Ora è mio! Questo è mio! Uh, è blu! Guarda qua! Visto? È mio! Wow, proprio da baciare! Non credi? Vuoi vedere più da vicino? Beh, no! E questa è tutta mia! Ho detto che è mia! Rossa è meglio, comunque! Ridammela! Basta! Wow, quanto sei forte! Ah, non me lo aspettavo! Forse abbiamo un po' esagerato! Sono blu! Uh, per poco! Ok, ho finito! Credo sia una buona idea! È stato incredibile! Cibo rosso o blu? Di che colore vorresti mangiarlo? Faccelo sapere nei commenti qui sotto! Non dimenticare di condividere questo video con i tuoi amici e ricorda di iscriverti al nostro canale per altre sfide divertenti come questa!